Non parlate mai di vostra moglie. Mai trovato il tempo per sposarmi. Adesso non sembrate incalzato dal tempo. O siete venuto qui per aggiungere qualche pagina al vostro diario, come il nome e la descrizione della ragazza con la quale eravate sulla boa. Già, voi date la caccia a un marito. Non era gelosia quella che avete notato. Solo disappunto per la vostra limitata immaginazione. Siete ancora le ragazzine francesi. Scommetto che l'avete incantata, il grande giovane uomo d'affari americano. Gli avrete parlato delle vostre grandi foreste. Ma se stavo parlando con te... Lo so, ma... Mi dicesti di non parlare con nessuno finché non fossi arrivato tu. Lo so, ma io gli ho dato una versione un po' diversa. Perché? Ho detto che non hai chiamato la polizia perché pensavi che la chiamassi io dall'albergo. Perché hai detto questo? Perché è una spiegazione perfettamente logica e mi ha creduto. Se pensassero che abbiamo indugiato a chiamarli, si insospettirebbero e farebbero un sacco di domande. E vuoi che dica la stessa cosa? Direi di sì. No, signora Ramirez. Ci sono abituata. Mio padre e mio fratello furono uccisi così. Erano dalla parte della ragione, ma non giovò a nulla al momento dell'incidente. Mio fratello era un ragazzo. L'ho visto morire. Fu allora che divenne quattro. Non mi importa chi ha torto o chi ha ragione. Ci deve essere un modo migliore di concepire la vita. Will sa come la penso in queste cose. Oh, petite sœur, tu sei un veritabile petit chapè. Tu trouves? Ma sì. Ma qu'è ci sia? Voyons. Tu sei palle. Palle? Oh, j'espère bien che ce n'est pas violon. Le violon? Montre-moi ta lingue. Ma sì. Oh, ma pauvre petite. Dépêche-toi, chérie. Vite, 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 vite. Va dire a mamma di se depêcher. Buongiorno. Sono Rosy Lord. Loro due sono... Oh, certo che lo sono. Io adoro gli estranei. Il mio nome per intero è... Lisa... Carol... Fremont. Quella Lisa Fremont che non porta mai lo stesso vestito due volte. Perché è quello che la gente si aspetta da lei. È appena uscito da una boutique parigina. Si potrà vendere? Beh, dipende dal prezzo. Dunque, vediamo. C'è il costo del trasporto, le spese doganali, le varie tasse, il modello originale. È regalato a 1100 dollari. Unesciutto. Non c'è il fondo. Non c'è il fondo. È un fondo. Per il fondo. Un fondo. Non c'è il fondo. Di fondo. Fremont.